Buongiorno a tutti e bentornati su Leoni Files, il podcast settimanale dell'Istituto Bruno Leoni. Questa settimana in formazione particolare, visto che i miei compagni di viaggio, Carlo Amente e Serena Sileoni, oggi mi hanno abbandonato e non voglio pensare male, chissà dove sono finito. Ma la loro assenza è più che compensata dalla presenza del nostro ospite di questa settimana, che è David Carretta, che è il corrispondente da Bruxelles del Foglio e di Radio Radicale, ma soprattutto è un grande conoscitore delle dinamiche europee, degli equilibri europei, della politica europea, ed è una delle persone che si sono fatte la maratona del Consiglio europeo dello scorso fine settimana, nel quale sono stati definiti i primi passi, ma sono passi importanti e concreti, verso il cosiddetto Next Generation EU, oltre che verso l'approvazione del nuovo bilancio finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione Europea. Ciao David, buongiorno e grazie. Buongiorno a voi e grazie per ospitarmi. Beh, allora, anzitutto io partirei con un paio di domande di riscaldamento, diciamo così, visto che all'indomani del Consiglio europeo abbiamo visto pressoché un unanime coro di soddisfazione, diciamo lasciando da parte quelli in Italia e all'estero che, per così dire, per job description dicono che nulla va bene, ma insomma in generale c'è stata una reazione molto positiva all'accordo che è stato raggiunto e che però non ha trovato riscontro nella reazione delle borse. Le borse non sembrano essersi accorte, forse davano già per scontato che si arrivasse a un accordo simile a quello che si è trovato, però prima di entrare nel merito e nelle interpretazioni, ci racconti dal tuo punto di vista effettivamente come è andata? Cioè le cose sono andate come ti aspettavi o ci sono state dei colpi di scena in queste quattro giorni e notti di negoziazioni ininterrotte? No, il colpo di scena è che l'accordo è arrivato nei primi quattro giorni perché molti si aspettavano un secondo vertice per arrivare a un'intesa definitiva, perché il negoziato era effettivamente molto complesso. Perché? Perché alla fine quello che è stato deciso è davvero un passo storico, qualcosa che era inimmaginabile appena tre mesi fa, quattro mesi fa, quando i 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea si stavano scontrando sulla condizionalità del MES per reagire alla pandemia o l'ipotesi Corona Bond e invece il passo storico è che per la prima volta l'Unione Europea fa debito comune, e non è la prima volta sul debito comune, ma lo fa per trasferimenti fiscali da alcuni paesi ad altri, quelli che chiamiamo sussidi o stanziamenti a fondo perduto e di cui l'Italia sarà il principale beneficiario, almeno in termini assoluti. Ecco, questo non era mai accaduto, c'era una resistenza molto forte anche da parte della Germania di Angela Merkel fino all'inizio di maggio su questo. Merkel si è lasciata convincere fondamentalmente da Christine Lagarde che un problema, e il problema si chiama Italia, necessitava questa risposta straordinaria, cioè il rischio di un'insostenibilità del debito dell'Italia, e dunque i rischi per la tenuta della zona euro necessitavano una soluzione diversa rispetto al passato. In passato erano prestiti, o meglio debito per fare prestiti, questa volta è debito in parte per fare prestiti, in parte per trasferimenti fiscali. Poi c'è stata la resistenza, non così forte in realtà, perché alla fine non hanno messo veti né altro, del cosiddetto gruppo dei paesi frugali che fino a dieci giorni fa sostenevano sempre la necessità di debito per fare prestiti e non debito per stanziamenti. Quindi il vertice è andato come doveva andare, semmai il risultato positivo è arrivato una settimana prima. Ma come dicevi tu, secondo me i mercati per esempio se lo attendevano questo risultato positivo, anche perché c'era l'impegno della cancelliera tedesca Angela Merkel su questo, non di chiunque in Europa, non era una semplice proposta della Commissione. E comunque un effetto c'è stato, perché negli scorsi giorni lo spread italiano è sceso per la prima volta sotto i 150 punti da quando è iniziata tutta questo caos o questa crisi sanitaria ed economica del coronavirus. Quindi un po' è stato prezzato anche dai mercati tutto ciò. Ecco, guardiamo allora alla sostanza dell'accordo. Ora al di là delle cifre, poi 700, 750, 500 miliardi, che sono importanti ma fino a un certo punto, perché il cambiamento rilevante è anzitutto nel ruolo e nella funzione dell'Unione. Correggimi se sbaglio in questa schematizzazione. Allora, anzitutto come dicevi tu è stata approvata, sdoganata l'idea di emettere titoli del debito, di debito europei, con cui finanziare prestiti e trasferimenti fiscali interni all'Unione con l'obiettivo di aiutare i paesi in difficoltà di fronte alla crisi del coronavirus. Ma a questo punto si può dire oggi la crisi del coronavirus, domani sarà un'altra. Ci abbiamo accettato il principio. Per finanziare questo pacchetto di risorse si è anche andati a incidere su alcune voci, peraltro importanti, del bilancio comune, che sono state non ridotte, ma del quale è stato eliminato fondamentalmente l'incremento atteso, per esempio per i fondi per la ricerca nell'ambito del programma Horizon 2020. Però è un po' diverso, anche su questo c'è stata un po' di confusione, nel senso che il punto è questo, a un certo punto di fronte alla resistenza dei frugali per arrivare ad un accordo che accontentasse tutti. Cosa è successo? All'inizio la proposta erano 500 miliardi di stanziamenti, sussidi a fondo perduto. Di questi 310 dovevano andare direttamente nelle casse degli stati membri gestite dai governi, gli 81 all'inizio, 81,8 all'Italia. E l'altra parte, cioè 190 miliardi, dovevano andare a programmi europei per incrementare le poste del bilancio settennale per appunto Horizon, un programma sulla sanità trasfrontaliera, fondi alla Bay per la ricapitalizzazione delle imprese, per gli investimenti, eccetera, eccetera. Il trucco che è stato usato da Charles Michel per arrivare a un consenso è stato non toccare la quota riservata ai governi nazionali se la gestiscono loro e tagliare tutto quello che era destinato in più al bilancio europeo. Detto ciò, per esempio, Horizon per i prossimi sette anni avrà più fondi rispetto ai sette anni passati, quindi va anche ridimensionato tutto ciò. E il secondo elemento che non va dimenticato, dal mio punto di vista, perché altrimenti critichiamo sempre l'Europa ma ci dimentichiamo del ruolo dei governi nazionali, è che l'Italia avrà di trasferimenti 81,4 miliardi, secondo le stime della ragioneria generale dello Stato. Quei soldi li può usare per la ricerca, non è che è obbligata a usarli per aumentare le pensioni o il reddito di cittadinanza, tutt'altro. Cioè, l'idea di fondo è fare squadra anche in termini di dove finiscono i soldi, quindi se l'Italia sarà sufficientemente intelligente da mettere in piedi dei programmi sulla ricerca, sì, quei fondi si andranno a sommare a quelli di Horizon. Poi c'è una logica nazionale per arrivare a un accordo e questo è stato il trucco per cui quei fondi sono stati, diciamo, non tolti, insomma sì, sono stati tolti dai programmi europei con poca lungimiranza dal mio punto di vista, ma insomma sono sempre dei compromessi. Ecco, poi terzo elemento è che rispetto alle proposte originali viene un po' ridimensionato il ruolo della Commissione e della spesa direttamente europea, mentre guadagna peso e forse era inevitabile e per certi versi è sempre andata così in questi grandi passi avanti. Diventa più importante il ruolo del Consiglio, per inciso come dicevi tu, questi fondi verranno poi assegnati, attribuiti agli Stati con una serie di condizionalità, di obblighi, eccetera, su cui tra poco torniamo, però dovranno essere spesi dagli Stati che dovranno appunto decidere cosa farne entro certi paletti. E poi quarto e ultimo pilastro, importante, ma quello per quanto capisco io ancora più vago, è che una parte di questi fondi arriveranno non solo dall'emissione di debito congiunto, non solo dai contributi dei diversi Stati membri, ma anche dall'imposizione di tasse o di cose simili a tasse a livello europeo. Si parla di un'imposta sui prodotti di plastica a partire dal 2021, una sorta di plastic tax come quella che noi, secondo me, giustamente abbiamo sospeso avendola precedentemente introdotta nel nostro Paese, qualcosa sul, diciamo, una sorta di dazio sull'importazione dei prodotti da parte dei Paesi che non abbiano impegni comparabili ai nostri in quanto alla riduzione delle emissioni di CO2, e anche questo è un tema super complesso, non c'entriamo, eccetera, e così via. Ecco... Però questo serve a rimborsare poi, in gran parte. Sì, questo dovrebbe andare a garantire la riduzione, cioè questa nuova fiscalità dovrebbe andare a alleggerire il peso sulle spalle dei contributi nazionali, che dovrebbero andare appunto a finanziare, a rimborsare le emissioni di debito comune. Ecco, c'è quindi un tema di sostanza e di interesse europeo, se vuoi, e c'è un tema di sostanza e di interesse nazionale dei diversi Stati membri. Io partirei dal primo punto. Dal punto di vista dell'Europa, tu sei d'accordo che è stato fatto un passo avanti, effettivamente un passo avanti? A me non interessa tanto dire passo avanti verso un'Europa più o meno poesa, che è uno slogan, ma non passo avanti verso un'Europa che funziona di più e meglio? Ma sicuramente è un passo avanti, nel senso che si crea un sistema di protezione o cuscinetto direi, per preservare due cose importanti, se non fondamentali. Uno è il mercato interno, perché il vero rischio era di una disgregazione nel mercato interno per le diverse capacità fiscali degli Stati membri, in particolare della Germania. E questo recovery fund in parte va a compensare la mancanza di risorse dell'Italia o della Spagna, della Grecia e degli altri, per cui in teoria dà una mano per evitare questa divergenza sempre più grande. E il secondo punto è la moneta unica, perché alla fine c'è anche quello, nel senso che con un paese che è a rischio sostenibilità del debito, con un paese che è a rischio sostenibilità del debito, la moneta unica è in gioco. E se salta l'Italia, voglio dire, gli effetti li potete ben immaginare, sono superabili se si fa l'euro del nord, ma la zona euro, così come oggi, non ci sarebbe più. Certo. Ecco, da questo punto di vista c'è un tema interessante. Io non nascondo la mia simpatia per i cosiddetti frugali, che credo che abbiano giocato un ruolo in parte peggiorativo, ma in parte anche migliorativo rispetto all'esito del negoziato. Ecco, c'è una cosa che mi pare importante riconoscere. I frugali, alla fine, pur in cambio di una serie di vantaggi, di relativi vantaggi finanziari, perché sono stati incrementati i rebates, ma comunque la quota di contribuzione al bilancio europeo e di loro spettanza è destinata inevitabilmente a aumentare. Io credo che i frugali abbiano fatto un importante sacrificio politico rispetto ai loro elettorati nazionali per preservare il mercato interno. Cioè loro sostanzialmente hanno detto, noi accettiamo, perché per carità non c'erano grandissime alternative, vista la coalizione che si era creata, ma comunque noi accettiamo di spendere di più per tutelare quello che riteniamo essere il nostro interesse, cioè l'esistenza di un mercato integrato a livello europeo. Dall'altro lato ci sono altri paesi, tra di essi l'Italia, poi dopo questa domanda cominciamo a parlare più nel dettaglio dell'Italia, ma stiamo ancora a un livello generale, che saranno o che si aspettano di essere i beneficiari netti di questa massa finanziaria, ai quali però in cambio probabilmente si chiede anche di prendere un po' più sul serio le direttive europee, i regolamenti europei e in generale il rispetto delle regole del mercato interno. Da questo punto di vista tu credi che questo secondo messaggio sia passato? Cioè quelli sono soldi messi a tutela e a presidio del mercato interno oppure la tua sensazione è che per ora, perlomeno dal lato dei beneficiari, ci sia semplicemente, come dire, gli occhi a forma di dollaro che si sono illuminati vedendo i sacchi di banconote che stanno per arrivare? Guarda, ho più questa in seconda impressione, cioè il dibattito sui frugali secondo me è stato molto politicizzato, abbastanza isterico, Rütte, questo uomo cattivo che vuole il male dell'Italia, e quant'altro. Allora, io ieri mi sono messo un po' a fare calcoli a spanne di quanto ci mettono i frugali in questo recovery fund, ma non solo i frugali, anche altri paesi. Della Germania prima di tutti. Esatto, in Lussemburgo adesso ci arriviamo. Ovviamente prima di tutto la Germania in termini assoluti, ma poi ho preso Silvia Merler che è una ricercatrice molto preparata. Ora, i dati oggi sono impossibili da sapere con certezza quanto mette chi, chi mette cosa, perché la chiave di ripartizione dei fondi cambierà nel 2021, a fine 2021, in più i rimborsi del debito comune europeo avverranno sulla base di contributi nazionali calcolati sul PIL e dunque il PIL evolve in un certo modo, cambia il contributo nazionale. Insomma, siamo molto a spanne. Ma qual è il risultato della spanne? Allora, partiamo dai frugali. La Danimarca metterà 7 miliardi per rimborsare questo debito comune che vale, o meglio, il saldo negativo sono 7 miliardi. Cosa vuol dire? Che ogni cittadino danese ci metterà 1.272 euro. L'Olanda sono 16 miliardi, più o meno 1.000 euro a olandese. La Svezia 8 miliardi, 842 euro. L'Austria 7 miliardi, 823 euro. Poi c'è la Germania, 69 miliardi complessivi di saldo netto negativo, cioè quello che ci mette di tasca sua, e sono 851 euro. E arriviamo a situazioni abbastanza impressionanti, perché, per esempio, gli irlandesi rimborseranno più o meno 8 miliardi, cioè 1.700 euro a testa, e i lussemburghesi 2 miliardi, cioè 4.000 euro a testa. Ora, io a questi signori, a cominciare dai frugali, direi anche grazie, perché, insomma, se c'è questa roba qui, è perché la pagano i contribuenti di altri paesi, non perché la paghiamo noi. Noi italiani diventiamo, appunto, beneficiari netti del recovery fund in termini assoluti, ma anche, tra l'altro, del bilancio comunitario nei prossimi sette anni, anche se non nei primi anni del settennato. Insomma, ammazza, questi ci mettono un sacco di soldi, e, di conseguenza, quando ci sono tutti i dibattiti sulla governance del recovery fund, sulle condizionalità, andrebbe ricordato che c'è un principio, no taxation without representation, nessuno in Europa ha votato in un referendum per avere debito comune europeo e fiscalità europea con risorse proprie. Di conseguenza, mi pare, quantomeno il minimo, che un primo ministro responsabile di un governo qualsiasi ponga delle condizioni per fare in modo che i soldi del suo contribuente vengano spesi in modo corretto. Questo è il succo di tutta la faccenda. E il fatto che Rütte abbia ottenuto una sorta di veto che non è un veto, che si chiama freno d'emergenza, che probabilmente non verrà mai utilizzato, è una garanzia che quei soldi verranno spese bene, i soldi degli olandesi. Ma paradossalmente una garanzia anche per gli italiani, perché farà in modo che qualcuno controlli i governi in modo che quei soldi vengano utilizzati in modo efficiente, per fare quello che si è detto, cioè investimenti, riforme, ripresa economica, ma anche resilienza. Perché se ci ritroviamo tra tre anni, cinque anni o sette anni nella stessa situazione di prima, servirà un altro recovery fund, ma non ci daranno un altro recovery fund. Questa è la realtà. Beh, certamente. Ecco, e ora arriviamo quindi a parlare dell'Italia. Allora, agli italiani, diciamo, una delle rifrein della propaganda anti-europeista nel nostro paese è sempre stata che noi siamo uno dei maggiori contributori netti del bilancio europeo. Nel 2018, in assoluto, il saldo tra quello che abbiamo versato e quello che abbiamo ottenuto indietro è stato negativo per circa sette miliardi. No, no, meno, meno. Via meno. Guarda, la media dell'ultimo periodo di bilancio, se non ricordo male, è 3,9 miliardi. Allora, ogni anno varia un po', perché, allora, meglio non prendere un dato di un anno solo. Sì, comunque. Se bisogna, come dire, se l'Italia spende poco, perché non è in grado di spendere i fondi strutturali, è ovvio che dà di più al bilancio comunitario, ma quei soldi arriveranno dopo. Dunque, se prendi un periodo più lungo, la media è, diciamo, tra i 3,9 e i 4 miliardi l'anni. Comunque, diciamo, abbiamo versato più di quello che ricevevamo. Perché si è creata questa situazione? Perché il bilancio europeo, seppure in modi a volte semplici, a volte complicati, però funziona fondamentalmente come ogni bilancio pubblico e opera una ridistribuzione da ricchi a poveri. E quindi noi pagavamo più di quello che ricevamo perché eravamo uno dei paesi, tra virgolette, ricchi all'interno dell'Unione Europea. Noi, con il Recovery Fund, con il Next Generation EU, passiamo dall'altra parte della barricata. Cioè, diventiamo un paese che riceve risorse. A me piace ricordare che un anno fa, festeggiava, circa un anno fa, festeggiavamo, c'era il governo anti-europeista di Giuseppe Conte, festeggiavamo l'abolizione della povertà. Oggi, col governo europeista di Giuseppe Conte, festeggiamo invece il fatto di essere entrati nel club dei poveri. E questa è la cosa su cui mi interesserebbe sentire un tuo pensiero. È naturalmente l'effetto di questa pazzesca massa finanziaria che viene messa sul mercato per bilanciare, diciamo, per rispondere alla crisi del coronavirus. Ma è anche l'esito di uno scivolamento graduale che si è verificato nell'arco degli ultimi 20 o 30 anni del nostro paese nella sua posizione relativa in Europa. Probabilmente, senza il coronavirus e senza il Next Generation EU, magari ci sarebbe voluto qualche anno in più, ma comunque ci saremmo trovati dall'altra parte della barricata. E da questo punto di vista mi sembra che sia poco da festeggiare. No, no, bisognerebbe piangere, non festeggiare. Perché, voglio dire, se la Germania decide di pagare tanto è perché la Germania è ricca. Ed è ricca non perché ha fatto politiche ridistributive, ma perché ha fatto una serie di riforme che le hanno permesso di recuperare competitività e produttività nei mercati mondiali. Dobbiamo ricordare che nel periodo 2000-2006 la Germania era il grande malatto d'Europa. Poi ha fatto dieci anni in riforme difficili. un governo non si è più ripreso, un partito, il Partito Socialdemocratico all'epoca di Gerard Schroeder. Così è stato. E dunque oggi si può mettere mano al portafoglio con quella cifra 70 miliardi solo per il saldo del recovery fund a cui si aggiungono i soldi che mette in più il bilancio comunitario che sono un'altra montagna. Il saldo netto della Germania negativo dovrebbe essere, se mi ricordo bene, stanno intorno ai 26 miliardi. Magari non è quella la cifra, ma dal senso, cioè noi ci lamentiamo 4 miliardi, 7 miliardi di saldo netto negativo, loro stanno a 26. L'Italia, l'Italia, già prima del coronavirus, era destinata nei prossimi sette anni a diventare un beneficiario netto, cioè a ricevere più fondi più fondi dall'Europa di quanti ne dà. E la ragione è molto semplice, è la caduta del PIL rispetto agli altri paesi europei. Gli altri sono cresciuti dal 2, 3, 1, 4%, noi siamo cresciuti del 0, meno 0,5 più 1,3 per tornare poi a 0,3 nel 2019. Risultato, il contributo nazionale al bilancio comunitario è sceso, mentre quello degli altri è aumentato. Vi mostrerei questa simulazione che è stata fatta dalla Commissione europea sulla proposta di bilancio dell'Unione europea prima del coronavirus, ma che rende abbastanza bene l'idea, perché questo bilancio è diverso da quelli precedenti perché c'è stata la Brexit, quindi esce il Regno Unito che era un contributore netto importante, si perdono circa 10 miliardi l'anno, cioè un buco di 70 miliardi. Se guardate questa tabella alla voce Italia, il contributo dell'Italia al bilancio comunitario in media dal 2020 al 2027 passa dallo 0,86% del reddito nazionale lordo del GNI allo 0,87%. Se si guardano gli altri paesi dal 2020 al 2027 il Belgio passa dallo 0,86% al 0,92%, la Bulgaria dallo 0,86% all'1,05%, la Germania che è Deutschland dallo 0,75% del reddito nazionale lordo allo 0,92%. Insomma, fondamentalmente si capisce bene che a causa della caduta o meglio della stagnazione del PIL ma insomma del distacco tra la crescita degli altri e la nostra mancata crescita ci siamo cioè siamo destinati a diventare i nuovi paesi dell'est questa è la realtà perché? Perché le riforme non sono state fatte e i risultati si riflettono nei contributi che arrivano dall'Europa ne riceveremo di più nella politica di coesione per esempio e siamo gli unici a riceverne di più ne paghiamo di meno ma non c'è niente da festeggiare c'è da piangere fondamentalmente questa è la realtà e lo stesso vale per il recovery fund voglio dire se il nostro paese cade non ricordo esattamente le stime della commissione ma siamo intorno al 12% e l'anno prossimo si prevede una crescita del 6% mentre altri paesi come la Francia e la Spagna hanno una caduta più o meno simile alla nostra ma l'anno prossimo hanno un rimbalzo più alto cioè 8-10% è perché ci sono strutture economiche che sono più propense a riprendersi a ritornare a crescere mentre da noi no noi no noi siamo cioè tutta la crescita potenziale che avevamo è stata distrutta e per ricostruirla ci vorrà molto più tempo ecco visto che stiamo parlando dell'Italia come valuti tu la condotta negoziale dell'Italia nell'ambito del Consiglio e chiaramente dei lavori preparatori del Consiglio nel senso che noi abbiamo avuto dei messaggi abbastanza contrastanti cioè il governo si è ha cercato di presentarsi come protagonista se non un po' autore di questa negoziazione la stampa internazionale probabilmente non ha riconosciuto un ruolo così centrale al nostro paese se non nel senso che dicevi tu cioè come epicentro del problema che andava risolto e chiaramente quando tu sei l'epicentro del problema qualche voce in capitolo ce l'hai ma in generale come ti sembra che sia stata ricevuta la condotta italiana a partire dal temporeggiamento prima e a oggi quasi del rifiuto del ricorso al MES per poi arrivare a parole anche abbastanza pesanti usate dal presidente Conte nei confronti di Rutte tu ti prenderai la responsabilità di far crollare i mercati eccetera allora personalmente ritengo che il presidente del consiglio non abbia negoziato male questa è la premessa però non ha svolto un ruolo da protagonista Conte ha saputo utilizzare il bene direi abbastanza bene la quota di empatia che c'è stata nei confronti dell'italia come primo paese colpito dalla crisi sanitaria del coronavirus le immagini di Bergamo il numero di decessi eccetera perché prima che ci fosse tutta questa grande crisi va ricordato che lo stesso Conte all'inizio di tutta la trattativa sugli strumenti europei in un'intervista al Financial Times se non ricordo male il 16 di marzo fu il primo a chiedere il MES l'utilizzo del MES per una linea di credito probabilmente qualcuno gliel'aveva messo in bocca diciamo non era una sua idea originale ma fu il primo a proporla con questa intervista al Financial Times tutti si misero a lavorare su quello poi l'Italia prese all'interno un dibattito prese piede un dibattito molto isterico su questo e dunque la cosa venne relativamente abbandonata anche se poi l'Europa è riuscita a creare quella linea di credito ovviamente come dicevi tu giustamente l'Italia è centrale in questo piano perché il vero problema è il problema default Italia e questo ha convinto Angela Merkel e Emmanuel Macron Macron ha saputo approfittare di questo perché lui da tempo predicava la necessità di un strumento di debito comune per la zona euro il bilancio autonomo della zona euro veniva chiamata fino all'anno scorso e di conseguenza ci è saltato sopra il momento di svolta e il negoziato è stato condotto da questi due protagonisti cioè da Merkel da un lato e Emmanuel Macron dall'altro durante i quattro giorni di vertice secondo me Conte si è mosso bene perché da un lato ha spinto per ridurre diciamo le condizionalità o le rigidità della governance ma senza mai arrivare a un punto di rottura con Mark Rütte e con chi spingeva per quel tipo di governance nel senso che sì alla fine c'è come dire è stato ribadito il ruolo della commissione tutta una serie di technicalities che Conte usa per dire non c'è il veto però in realtà il veto c'è e non è che ne ha fatto una linea rossa insuperabile così come non ha fatto della condizionalità una linea rossa insuperabile uno dei paradossi di tutta questa dibattito sul MES è che oggi quei signori che vedo dietro di te festeggiano per uno strumento che ha molta più condizionalità della linea di credito pandemica del MES perché devi presentare un programma di riforme in linea col semestre europeo e basta andare a vedere le riforme del 2019 che cominciano le raccomandazioni del 2019 che cominciano con abolite quota 100 anche se non è scritto proprio così ma fondamentalmente quello ma tutta una serie di riforme che il Movimento 5 Stelle si è sempre rifiutato di discutere e nemmeno di fare ci sono in quelle raccomandazioni liberalizzazioni mercato del lavoro più flessibile una riforma del reddito di cittadinanza perché bisogna fare politiche attive sul lavoro non semplicemente assumere dei navigator eccetera quindi il semestre europeo le raccomandazioni di Bruxelles ai paesi nella classifica per ottenere i fondi cioè nei punti vengono addirittura prima di green deal e digitalizzazione quindi davvero la condizionalità è forte nella governance vengono utilizzati termini come targets e milestones che erano utilizzati ai tempi della troica in Grecia quindi veramente molto più del mess che condizionalità ne ha una ed è di scopo usare i fondi per le spese sanitarie e di prevenzione dimentichiamo sempre la prevenzione che in realtà e in tutto ciò ti interrompo dice spese sanitarie di prevenzione dirette e indirette quindi come dire anche lì la condizionalità è blanda ecco anche sullo scopo qualcuno del mess a me ha detto fondamentalmente gli ipad per i bambini nelle scuole siccome è prevenzione li possiamo finanziare ma insomma i banchi però no anche i banchi no non dirlo non diciamolo sono prestiti sono prestiti sono prestiti e infatti una delle cose bizzarre dei festeggiamenti che ci sono lì di dietro di te è che si festeggia per tra l'altro 127 miliardi di prestiti cioè gli stessi del mess anzi con un tasso un po' più alto del mess poi è vero ci sono gli 80 81,4 miliardi di distanziamenti a fondo perduto ma insomma è una struttura diversa allora in tutto ciò forse bisognerebbe tornare un po' alle cose vere cominciamo a fare questo piano delle riforme cominciamo a dire se vogliamo questo mess perché ha pesato sul negoziato il fatto che l'Italia non abbia chiesto il mess uno degli argomenti utilizzati da RUT dagli altri paesi frugali in parte anche dalla Germania è forse non è così urgente questo recovery fund se gli strumenti che abbiamo messo in piedi con tanta fatica in due mesi tra cui la linea di credito del mess da 240 miliardi non vengono utilizzate per ragioni politiche interne cioè non è che le divisioni della maggioranza giustificano il fatto che uno non faccia le cose che l'Europa offre perché non è obbligatorio farlo ma se si ha così bisogno di denaro a un certo punto quello c'è e se si vuole usarlo bene se non si vuole usarlo non veniteci a chiedere altri prestiti con il recovery fund questo è il ragionamento ecco e ultima ultima domanda una domanda un po' più politica tu hai notato nei gruppi parlamentari dei al Parlamento Europeo dei partiti italiani in particolare di quelle di maggioranza delle posizioni allineate o diverse rispetto a quelle che gli stessi partiti hanno tenuto nel dibattito interno penso in particolare chiaramente al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle però ecco per parlare fuori dai denti e soprattutto in riguardo al Movimento 5 Stelle hai avuto la sensazione di un Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo più europeista meno europeista o uguale rispetto alle posizioni governative i 5 Stelle sono spaccati i 5 Stelle e il Parlamento Europeo sono divisi in due campi da un lato c'è un deputato che si chiama Piedicini che è linea Lega Bagnai Borghi per capirci e poi c'è Castaldo per fare un altro esempio che invece è una linea di Maio filogovernativa quasi Pro Draghi è arrivato tutto ciò quindi poi alla fine devono cercare di votare insieme anche se capita che non votino insieme per ovvie ragioni di propaganda politica ma sono due linee completamente diverse è interessante in realtà secondo me il voto c'è stato un voto al Parlamento Europeo su questo recovery fund più il bilancio pluriannale col Parlamento Europeo che ha già iniziato a dire no a minacciare di bocciare il bilancio 2021-2027 è più interessante come si è comportata l'opposizione perché Forza Italia ha votato a favore di questo di questa risoluzione comune del Parlamento Europeo invece Fratelli d'Italia e la Lega non hanno votato contro malgrado tutte le immense critiche si sono astenute il che è un po' paradossale perché voglio dire se uno dice questa è una grande schifezza come ha detto Salvini mi pare una truffa una fregatura grande come una casa adesso non ricordo bene io l'ho letto in inglese quindi a volte traduco male quello che dicono i politici italiani ma se è una grande truffa non ti astieni voti contro e invece questi si sono astenuti ed è uno dei paradossi di questi populisti compresi 5 Stelle che l'Europa non fa mai abbastanza questo è il messaggio è stata molto divertente la reazione di Marine Le Pen Marine Le Pen quando andava in televisione fino a qualche settimana fa diceva l'Europa non ci aiuta non fa abbastanza per i cittadini eccetera eccetera poi quando è arrivato questo recovery fund la reazione è stata ah no fa troppo perché ci sono delle tasse europee un debito comune europeo io potrei anche essere d'accordo che a me non piacciono né le tasse né il debito però non puoi dirmi il giorno il lunedì che non fa abbastanza e il martedì che fa troppo semplicemente perché non hai argomentazioni politiche e lo stesso vale per tutti gli altri la realtà è che l'Europa fa quello che può a condizione che anche bisogna aiutarla l'Europa a fare quello che può altrimenti ci si ritrova nella condizione della Grecia 2015 cioè arrivederci grazie non siamo obbligati a vivere insieme per sempre se non vogliamo vivere insieme per sempre e poi aggiungerei per concludere che poi l'Europa non è che sia come dire un'astronave che vive fuori da noi e che prende decisioni che ci passano totalmente sulla testa l'Europa fondamenta l'Europa nel senso delle istituzioni europee fa essenzialmente quello che i suoi azionisti cioè gli stati membri i governi degli stati membri le chiedono di fare e tutto quello su cui si mettono d'accordo i governi il Parlamento dove vengono rappresentate in via diretta le diciamo le istanze dei territori degli stati membri dei collegi elettorali e la stessa commissione che a rispetto della propaganda europeista che la presenta sempre come un organismo burocratico in realtà è un organismo assolutamente politico che vive con la maggioranza in Parlamento che è fatto da politici da noi c'è gente che faceva il premier fino a poco tempo fa l'italiano all'interno della commissione guarda io direi una cosa non sembrare troppo europeista come dire uno dei gravi danni alla costruzione europea degli ultimi degli ultimi direi dieci anni è stato la commissione attribuirsi un ruolo politico e non essere io quando quando chiacchiero dico sempre viva i burocrati viva gli eurocrati perché la commissione aveva nella sua storia un compito essere il guardiano dei trattati far applicare le regole applicarle perché perché in un sistema multidimensionale con una democrazia così complessa che si esercita Parlamento europeo parlamenti nazionali governi nazionali una moltiplicità di legittimità scadenze elettorali l'unica cosa che permette di convivere bene sono le regole allora un bel giorno la commissione ha detto sul spinta anche delle forze europeiste ci vuole l'Europa più democratica più politica la commissione ha detto mi assumo un ruolo politico e allora cosa ha fatto ho cominciato a non applicare più le regole o meglio a mettere la politica nell'applicazione delle regole e così ci sono state meno procedure di infrazione meno inchieste sugli aiuti di Stato quelli fatti dagli europei soprattutto c'è stato un atteggiamento sempre più politico nell'applicazione del patto di stabilità e crescita e questo ha minato in modo sostanziale la fiducia degli alcuni stati membri nei confronti della commissione europea non dell'Italia perché la commissione ci impone l'austerità ma dell'Olanda perché dice la commissione non ha applicato il patto di stabilità e crescita io non mi posso fidare della commissione e quindi chiedo il veto o il freno d'emergenza perché io non mi fido di questi signori che fanno politica anziché applicare le regole quindi l'Europa andrebbe vista appunto come uno spazio dal punto di vista istituzionale e democratico davvero multidimensionale ed è questa la difficoltà Rütte va a elezioni a marzo del 2021 contro un signore che dice non un centesimo all'Italia Gert Wilders che è alleato di Matteo Salvini questa un leader responsabile deve tenere conto di questo il presidente del consiglio Giuseppe Conte deve farlo in parte secondo me lo ha fatto e ha fatto bene perché alla fine ha ottenuto quello che voleva anche se non è stato lui il grande protagonista di questo summit di questo negoziato ecco direi che queste sono parole di sano realismo che ci aiutano a riflettere e a mettere anche tutto in prospettiva e quindi io concluderei qui la nostra chiacchierata grazie davvero a David Carretta e naturalmente invito tutti quelli che ci hanno seguito a leggere David sul foglio e ad ascoltarlo su Radio Radicale ciao a tutti e alla prossima puntata grazie a tutti Grazie a tutti.